Il luogo molto suggestivo, nella superba biblioteca Michele Caligiuri. Quale altro luogo, meglio di questo, che racchiude l'essenza stessa del tema che vi presenteremo, potrebbe incantare nello scoprire il viaggio dei libri? Di questo incredibile viaggio ne discuteranno la bibliologa e storica Antonella Di Vinci, che si è occupata delle postille autografe di Tommaso Campanella e ha fondato e diretto alla Casa del Libro Antico alla Mezzaterme, insieme a Mario Caligiuri, intellettuale e docente dell'Unical, comunicatore, saggista politico, promotore culturale e direttore del Master di Intelligent all'Università della Calabria. Promosso nel 2007 insieme a Francesco Costiga, nonché storico sindaco di Soverei Mannelli. Vi lasciamo ora alla magia dei libri. Buon ascolto. Grazie prima di tutto per essere qua. Ringrazio Florindo Rubettino che ha voluto coinvolgere la Biblioteca Michele Caligiuri dedicata alla memoria di mio padre in questo avvenimento straordinario che crea rete nella nostra regione, puntando sull'elemento straordinariamente importante della cultura. Questo credo sia un fatto importante, soprattutto in questo tempo, e promosso da una grande casa editrice che fa onore alla Calabria e al nostro Paese. Sono contento, vi do il benvenuto in questo luogo. Saluto la relatrice di questa sera, Antonella De Vinci, e svolgerò una breve introduzione, salutando tutti gli amici, tutti voi che siete venuti stasera. Ora, la Biblioteca ha un ruolo centrale per la formazione e la crescita culturale dei Domenicani, i quali dicevano, benvenuto Mimmo, che il libro è l'arma nostre milizie, il più prezioso dei tesori. E questo emerge dal libro colto, documentato, intelligente, rigoroso di Antonella De Vinci, fra le letture del giovane Tommaso Campanella, che è stato edito nel 2002, ma che ha una valenza importantissima e attualissima. Tra l'altro è citato nel libro, come ringraziamento, la grandissima studiosa Germana Ernest, che ho avuto il piacere pure di conoscere in anni lontani. Il libro affronta tre nodi. Primo, la lettura tra 500 e 600, il secondo, il convento dei Domenicani a Nicastro, e terzo, Tommaso Campanella, studente. Ora, è impossibile rendere la ricchezza di questo testo, perché ogni libro, come la storia, è un libro contemporaneo, perché a scriverlo o a leggerlo sono sempre contemporanei. Quindi questo ci induce a una inevitabile riflessione sull'oggi. Oggi, come nel periodo di Tommaso Campanella, siamo alla presenza di quello che Giansonio definì un mundus furiosus, c'è un mondo pieno di straordinari cambiamenti, di sconvolgimenti importanti. Oggi siamo di fronte a una metamorfosi profonda, nell'ipidazione tra uomo e macchine, le macchine che diventano più intelligenti e gli uomini che assorbono nel proprio interno quantità sempre maggiori di tecnologie, dove c'è la crisi delle parole, dovuta all'eccesso dell'informazione, dove c'è la crisi dell'identità, dovuta anche all'immigrazione. Giansonio definiva appunto l'Europa del Cinquecento un mundus furiosus, perché c'era stata la scoperta dell'America poco prima, c'era la riforma luterana, anglicana, calvinista, che ridussero l'Europa a un immenso campo di battaglie. Nel 1571 c'è la battaglia di Lepanto ed era stata inventata il secolo I la stampa, che poi nel Cinquecento esplode e provoca tutta una serie di conseguenze. La stampa inventata da Gutenberg nel 1455, dieci anni dopo c'è il primo libro stampato in Italia, Subbiaco, I Lactanzi e i Firmiani in opera, dieci anni ancora dopo, nel 75, in Calabria, il primo libro in ebraico pubblicato proprio nella nostra regione, il Pentateuco. Nel 1522 Lutero comincia a pubblicare la Bibbia in tedesco, e questa è una delle cause che fa esplodere le idee della rivolta luterana. Della prima parte del libro Antonella scrive che i libri non erano oggetti sconosciuti ai geti popolari. I libri ampiano la base della conoscenza, e giovano sia alla lingua e letteratura latina che a quella volgare. Il XVI secolo è inondato dai trattati in ogni campo dello scibile, e questo apre la strada alla formazione autodidattica insieme agli incontrollati voli del pensiero. L'autrice poi parla di lettura silenziosa, opposta alla lettura ad alta voce, quella che avviene nella riproposizione delle Sacre Scritture. E la lettura silenziosa è un varco per una coscienza più autonoma, perché mette in dubbio la sicurezza della feve. Quindi ci sono problemi nuovi, perché si comprende leggendo i libri che esistono altri mondi, altre visioni del mondo. La Chiesa risponde con l'indice dei libri proibiti. Campanella, che è stato poi processato per cinque volte, la gran parte dei casi proprio per i suoi scritti. La seconda parte parla del convento domenicano di Nicastro. I domenicani, come sapete, sono un ordine dei predicatori che è stato creato da San Domenico, proprio per combattere l'eresia. Nella iconografia i domenicani vengono indicati principalmente in due modi. Primo con la fiaccola, che è tenuta da un cagnolino come simbolo della fede, e secondo luogo con il libro in mano. Grande la preparazione teologica dei domenicani, tant'è vero che San Tommaso d'Aquino è il filosofo che probabilmente inonda di più e determina la filosofia cristiana medievale, però l'ordine dei domenicani è anche quello di Alberto Magno, che scrive sulla magia. La Santa Inquisizione vede i domenicani in prima fila, con Thomas de Torquemada, il cui corpo riposa a Santa Maria della Minerva, a Roma, e anche, famosissimo nel 1300, Bernardo Gui, che scrive il manuale dell'Inquisitore che a tutti noi è noto per essere uno dei protagonisti centrali del nome della Rosa di Umberto Ego. La Calabria del Cinquecento è la Calabria spagnola, perché gli spagnoli arrivano nel 1503, anche grazie alle battaglie, alle conquiste del gran capitano Consalvo de Cordoba, primo vicere del regno. Su questa figura straordinaria c'è un libro pubblicato da Rubettino, scritto da Santo Gioffre nel 2014, che è il gran capitano e il mistero della Madonna Nera, che poi è la Madonna di Seminara, ma le Madonne Nere arrivano insieme con gli spagnoli. Nel 1561 c'è la battaglia di Leipanto e questo però non impedisce le costanti scorrerie dei pirati, delle flotte ottomane sulle coste del Mezzogiorno e della Calabria. Pensate, due anni dopo Leipanto, nel 1563, i turchi occupano Palazzo Reale, guidati da Ulugali, da Occhiali, che era originario di Isola Capo Rizzuto e che era stato uno degli ammiragli che comandavano, l'unico che non esce sconfitto dalla battaglia di Leipanto. Tant'è vero che questo è il periodo in cui gli spagnoli edificano un grande sistema difensivo, concetto 14 torri e questa pagina, a questo momento, viene poi ricordato nel codice romano Carratelli, che è stato scoperto recentemente da Mimmo Carratelli, che verrà presentato in questa biblioteca, penso nel mese di novembre, e che era un manoscritto, un'opera unica, che descriveva il sistema costiero attuale e in potenza che si sarebbe dovuto realizzare nella Calabria ultra, cioè sia nella Calabria dalla parte ionica sia dalla parte tirrenica. E proprio in questo periodo, nella famosa, celebre congiura di Campanella del 1599, si attendevano le truppe turche che avrebbero dovuto sostenere la rivolta del frate dominicano. Il Cinquecento è anche l'anno del concilio di Trento, il secolo del concilio di Trento, che, nato per conciliare i cattolici con i protestanti, si trasforma nella risposta cattolica, nella controriforma. Dice l'autrice, il concilio di Trento è il più famoso, ma anche quello meno ecumenico concilio della storia della Chiesa. Riporta il pensiero di Eugenio Garenne sull'Inquisizione, che nasce non solo per far tacere le voci dei morti, ma per soffocare subito quelle dei vivi. Sempre nel Cinquecento, nel 1561, c'è l'Eccidio dei Valdesi, a guardia piemontese, che per tre secoli non è rimasto indisturbato in Calabria senza che ne toccasse nessuno. Poi il Cardinal Ghislieri, che poi diventa Pio V, guida le truppe cattoliche. Sette anni dopo nasce Campanella, nasce a Stilo. Nel 1586-1588 va a studiare a Necastro, filosofia soprattutto sull'opera di Aristotele. E questo è il cuore del libro, il pretesto del libro, di cui vi parlerà tra poco Antonella, effettua dei commenti, dei marginali sui testi, che sarebbero andati perduti, non sarebbero stati sottratti mai all'oblio se non ci fosse stato lo studio attento, intelligente di Antonella De Vinci. Sempre anni Castro, Campanella scrive la prima opera andata perduta, De Investigazione Reromo, e quindi questa parte molto ben documentata. Perché c'è proprio a Necastro e in Calabria questo convento domenicano? Perché la Calabria diventava un baluardo della fede, sia perché era il primo approdo, come oggi avviene per gli immigrati, il primo approdo delle flotte ottomane, e anche però all'interno. Nel Cinquecento in Calabria viene mandato nel 1559 già Luigi Pascale da Calvino per diffondere il verbo protestante, mentre dalla Calabria si sposta Valentino Gentile, nato a Scigliano nel 1516, a cui Luca a Dante, in un bellissimo libro pubblicato dall'edizione normale nel 2014, parla di questa figura inserita nel dissenso religioso del Cinquecento. Dopo Nicastro, Campanella va a Cosenza e scrive la nostra autrice che Campanella era inquieto, perché dopo Nicastro e Cosenza l'educazione dei Domenicani non lo soddisfaceva. E aveva studiato sui commentari di Aristotele sia quelli greci, sia quelli latini, che quelli arabi, e approfondisce poi lo studio di Platone, di Plinio e di Telesio. Qual è il pensiero di Campanella? Che era eversivo. La realtà dei sensi e la ragione ci danno la dimensione della realtà, non la fede. Quindi la filosofia sensibus dimostrata nel 1591 è il libro che lo fa andare per la prima volta a processo. La sua visione del mondo poi viene sviluppata nel Segrete di Castel Sant'Elmo, dove rimase per 27 anni la città del sole, una delle più grandi utopie della storia, che viene interpretata poi successivamente da Francesco De Santis con la sensibilità tipica di chi analizza la questione sociale dell'Ottocento in questo modo, come riporta l'autrice. E la ragione determina e giustifica i movimenti politici che sono vani se non hanno come base l'istruzione e la felicità delle classi più numerose. L'anno dopo inizia a scrivere in latino il libro De Senzu Rerum et Magia, quindi un'altra dimensione, che viene pubblicato solo nel 1620 a Francoforte. E il libro si conclude richiamando e riportando le due anime del Rinascimento. Da un lato Paracelso e Campanella, dall'altro Galileo, a cui Campanella dal carcere, dedica nel 1616 l'Apologia, e Isaac Newton nel secolo successivo. Newton che è contemporaneamente il primo degli scienziati e l'ultimo dei maghi. Quando muore, i suoi eredi trovano delle casse riempite di manoscritti vergati a mano da Newton che parlano dell'alchimia. Nel Tardo Cinquecento, scrive Antonella, si era venuto ad acquire cupamente il senso dell'impotenza dell'uomo a governare il proprio destino, e il progetto del futuro passava attraverso i segni, l'interpretazione delle profezie e degli avvisi, l'analisi delle congiunture astrali, delle comete, delle folgori, delle croci di fuoco, delle spade, delle travi o altro che gli uomini vedevano apparire e scomparire nei cieli. Ecco, il Cinquecento è anche il secolo di Michel de Notre-Dame, di Nostradamus, il più profetico dei veggenti di questo secolo. Ebbene, queste suggestioni e tante altre provengono da questo libro di Antonella De Vinci fra le letture del giovane Tommaso Campanella. Grazie per essere qua. Applausi Sono contentissima, buonasera, di essere qui tra vecchi amici, libri e nuovi amici. Allora cominciamo questo viaggio. La lettura è un'azione umana che non lascia segni tangibili sulla realtà, a differenza di altre azioni come l'agricoltura, l'architettura, la manifattura. Allora, per uno storico del libro è una bella sfida quando non vi siano testimonianze da interrogare, come in Calabria, dove le catastrofi naturali e umane riportano spesso a un grado zero della memoria culturale. È una bella sfida individuare protagonisti, modi e luoghi dell'uso dei libri. I libri sono stati per molto tempo il principale sistema informativo delle società, ruolo oggi svolto da decine di mezzi sofisticatissimi, con la loro semplicità disarmante di oggetto costituito da un testo scritto su fogli di carta legati fra loro. I libri hanno però modificato paesaggi interiori, ambienti sociali, mentalità e uomini del passato. Nell'epoca in cui si dipana la vicenda umana e culturale del filosofo calabrese Campanella, tra il Cinque e Seicento, snodo cruciale per il passaggio alla modernità, al nuovo pensiero filosofico e scientifico, leggere e accedere al sapere era molto più difficile di quanto non sia per noi oggi. Al tempo in cui il meridione d'Italia era sotto il dominio della Spagna, la Calabria non era esclusa, come potrebbe credersi, ma integrata nel circuito culturale europeo, già per via degli umanisti calabresi in organico contatto con l'umanesimo europeo, ma anche per l'affermarsi della stampa tipografica, che moltiplicò il numero dei libri disponibili per accrescere conoscenze e sapere. Libri messi in circolazione, in viaggio, da intraprendenti intermediari, da agenti e da librari, i librai. Di ciò troveremo riscontro concreto nelle presenze di volumi provenienti da tutta Europa in una raccolta di libri superstiti di quelle che furono le biblioteche dei frati predicatori, cosiddetti Domenicani, e dei frati Capuccini di Nicastro, l'odierna La Mezza Terme. In una di queste biblioteche, in particolare dei Domenicani, studiò per tre anni il filosofo calabrese Campanella, dal 1585 all'88, qui pervenendo alla scelta fondamentale del suo pensiero. Questo fondo librario è conservato oggi presso la Casa del Libro Antico di La Mezza Terme, biblioteca che ho contribuito a fondare e diretto fino al 2005. Poi è stata trasferita e inglobata nella biblioteca comunale. conserva più di 2500 volumi del 5, 6 e 700. Le 500 sono oltre 200. Gli anni tra il 500 e il 600 furono per la Calabria uno dei periodi più fecondi dal punto di vista delle relazioni culturali. Grazie ai libri che riuscivano ad arrivare da tutta Europa, c'era un fermento speculativo e creativo di uomini nuovi, come Francesco Vacone ebbe a dire di Telesio, e lo conoscemmo come il primo degli uomini nuovi. Uomini che avrebbero tentato di cambiare sistemi di pensiero e sistemi sociali. Telesio Campanella, l'eretico Valentino Gentile, il medico filosofo Agostino Doni, il medico Giulio Iasolino, l'astronomo Luigi Giglio e altri ancora. Ma il tasso di analfabetismo era altissimo. Assolutamente disinteressato ad ogni forma di istruzione pubblica era il governo spagnolo. La diffusione della stampa non fece aumentare comunque nei domini spagnoli il numero degli alfabetizzati, ma accrebbe però notevolmente il numero delle opere leggibili ed in circolazione per chi aveva imparato a leggere. Per un intellettuale non nobile d'origine, gli spazi d'azione erano ridottissimi. L'unica opportunità era data dall'insegnamento. Così l'ingresso nel clero, che consentiva anche l'insegnamento, venne a rappresentare l'unica alternativa per il sostegno dato dalla Chiesa stessa che mirava a costituire quella che oggi chiameremo una task force, una forza selezionata ed efficiente di specialisti in grado di arginare le idee riformate, recuperare consenso e attuare le politiche di Roma. La Chiesa, che fino all'età contemporanea ha saputo assicurarsi un ruolo primario nelle strategie educative, nel campo dell'istruzione nel XVI secolo adottò una politica formativa capillare e incisiva, volta al controllo della produzione e della diffusione del sapere, concretizzando tale volontà anche nella creazione di una rete di piccole scuole extraurbane, dove si attuava l'obiettivo controriformistico di cattolicizzazione delle popolazioni rurali. Mentre nelle città, nuovi ordini religiosi operavano per l'alfabetizzazione e per una più approfondita formazione. Accanto ai tradizionali studi di Domenicani, Francescani, Agostiniani e Carmelitani, nuovi ordini religiosi, i Gesuiti, i Capuccini, furono fondati e si mobilitarono per un rinnovamento di tutti i fedeli cristiani. Sicuramente ad ispirare questi progetti educativi c'era una volontà di potere, di controllo e di egemonia sulle classi popolari. Il fantasma della sanguinosa guerra dei contadini, scoppiata in Germania nella prima metà del Cinquecento, continuava a spaventare corti e curie europee. Il nemico, infatti, poteva essere anche peggio di Lutero, sintetizzato nel grido di battaglia di Münzer, leader delle rivolte dei poveri in Germania. Omnia sunt comunia, tutto e di tutti. L'Italia in quegli anni, pur nella relativa stabilità politica, subì l'estendersi e radicarsi di cancrene socio-economiche, soprattutto nei territori spagnoli, alimentati dalla rapacità fiscale dei dominatori e dalla corruzione della burocrazia. A ciò si aggiungevano epidemie, carestie e disastri naturali che avevano precipitato la popolazione in un diffuso stato di miseria. Dall'inverno del 1591 in poi, per tutta Italia e anche fuori d'essa, si sentirono i terribili morsi della fame. A Roma morirono 60.000 persone, in Emilia più di 10.000 poveri per le strade e nelle campagne più di 30.000 contadini che, costretti dalla fame, mangiavano radici di erbe a ogni sorta di immondizia, anche abborrita dal senso umano, intendendo con ciò escrementi e carne umana. Lo stesso Campanella scrisse in una sua opera che non è peccato da condannare l'antropofagia, il cibarsi di carne umana, che lui aveva constatato con i suoi occhi, quando ciò è determinato dalla necessità. L'imagomundi dei ceti popolari dell'età preindustriale differiva dai modelli del mondo di chiedici e letterati, così come apparivano diverse le categorie logiche e i canoni estetici. Per chi vive nel paese della fame, l'ordine naturale e divino si altera, il caotico prende il sopravvento sopra il razionale. Tutto, dalla strisciare dei bruchi, alla proliferazione abnorme di vermi, poteva essere interpretato come allarmante segnale di una mutazione imminente. Così nel tardo Cinquecento, quando si affaccia allo studio un ragazzino di stilo, quello che Corrado Alvaro chiama un genio popolare preso dalla febbre dell'assoluto, svegliato alla vita sottile dei libri. Si era venuta da cui recupamente il senso dell'impotenza dell'uomo a governare il proprio destino e il progetto del futuro passava attraverso i segni, l'interpretazione delle profezie, l'analisi delle congiunture astrali, delle comete, delle folguri, che gli uomini vedevano apparire e scomparire nei cieli. Nella società della seconda metà del Cinquecento, ovunque, nei centri abitati, i libri non erano oggetti sconosciuti ai ceti popolari, benché fosse realisticamente improbabile il possesso da parte di essi. È difficile tuttavia dedurre quanti e quali libri il popolo avesse opportunità di conoscere. Anche perché un gran numero di opere ritenute di scarso valore non trovava menzione in alcun tipo di elenco e i libri che venivano proibiti erano messi al sicuro e non di certo inventariati. Ma ancora più perché la lettura si realizzava girando così il problema dei costi principalmente attraverso la circolazione quasi sempre degli stessi libri e attraverso il prestito, gli uni dagli altri o l'ascolto della lettura. Tali pratiche si mantennero per molto tempo così da venire menzionate negli editti degli inquisitori che imponevano di denunciare chi componeva, trascriveva, stampava, vendeva, comprava, portava, donava, impressava, riceveva, teneva, nascondeva, leggeva, ascoltava, libri o scritti di erettici, ovvero contenenti eresia o infedeltà, arte magica, negromanzia, incanti, superstizioni. Dada l'importanza che la voce continuava ad avere nella trasmissione dei testi, il pubblico non si limitava ai suoi lettori nel senso moderno del termine, ma si estendeva ad un numero elevato di ascoltatori che venivano a conoscenza del testo. Bastava che in una famiglia o in una comunità ci fosse una sola persona in grado di leggere perché qualsiasi testo potesse essere fruito da molti. Nel contempo, la lettura silenziosa, possibilmente solitaria, progrediva non solo negli ambienti colti ma anche fra i più umidi e poiché tale pratica annulla lo scarto fra il mondo del testo e il mondo del lettore e conferisce una forza di persuasione inedita ai testi, era anche vista dalle autorità come un incantesimo pericoloso che confonde nei lettori la frontiera fra realtà e immaginazione. La presenza e la circolazione di un sempre maggiore e praticamente incontrollabile numero di libri in latino e nei volgari delle diverse nazioni non poteva che portare un numero sempre più vasto di lettori a porsi dei problemi nuovi e a ragionarvi intorno. E la sempre più facile possibilità di conoscenza visiva del mondo naturale garantita dalla produzione di libri scientifici illustrati non poteva che accrescere la tendenza a vedere in modo nuovo un mondo che sempre più nuovo appariva a un numero sempre più esteso di persone. E tutto questo leggere e rileggere e vedere e rivedere provocava la composizione e la stampa di opere nuove sempre più lontane dalle antiche sicure e coordinate del sapere e della visione del mondo da secoli consolidati. Inoltre, tutto ciò stimolava la nascita di un numero crescente di alfabeti che scuoteva anche per questa via equilibri consolidati di sapere e potere. La tecnica tipografica sconvolse il sistema di comunicazione sociale visto che nel giro di un secolo e mezzo dalla sua nascita furono stampati più di cento milioni di libri. L'avvento e la diffusione del procedimento di riproduzione dei testi non diffuse automaticamente la lettura. Sicuramente se ne avvantaggiarono i gruppi che in precedenza avevano avuto scarso accesso ai libri. così come si facilitò l'alfabetizzazione grazie all'incremento della stampa di manuali di grammatica elementare che migliorò le basi di conoscenza dei pochi che studiavano un poco di latino. Vedete nell'immagine un libro di grammatica latina conservato nel fondo antico alla mezza. Nel peggiovamento lo studio della lingua e della letteratura latina e anche la cultura volgare ne derivò una scrittura più standardizzata ed uniforme e la possibilità di un'omogenizzazione delle regole grammaticali dell'ortografia, del lessico e della pronuncia. Il XVI secolo fu inondato dai trattati in ogni campo dello scibile volti al perfezionamento individuale e intesi a fornire tutte le risposte a tutte le domande possibili dell'uomo dall'anatomia all'arte militare dall'esercizio morale alla contabilità e si aprirono la strada alla formazione autodidattica e insieme agli incontrollati voli del pensiero. La Chiesa di Roma corse ai ripari organizzando un apparato di controllo rigoroso che caratterizzò la cosiddetta controriforma. Nel 1542 a Roma venne fondata la congregazione del Santo Uffizio il cui obiettivo principale era organizzare il movimento di reazione e spesso persecuzione verso i protestanti. Papa Paolo IV che era stato inquisitore generale promulgò nel 1559 il primo Index Librorum Proibitorum l'indice dei libri proibiti inteso come strumento di controllo centralizzato a livello universale. Negli anni seguirono diverse edizioni. Qui vediamo l'immagine dell'edizione conservata alla Mezzia che è del 1711 perché ogni nuova edizione aggiornata annullava la precedente. Il meccanismo censorio creato dalla Chiesa con inquisizione Santo Uffizio e Indice funzionò in modo agguerrito per escludere dalla lettura proibendole o censurandole parzialmente sia opere antiche che recenti ritenute contrarie alla fede. Nell'indice comparvero anche le opere dei filosofi Telesio, Bruno, Campanella, Erasmo e scrittori come Boccaccio, Machiavelli e Dante a qualcuno degli stessi inquisitori accade di cadere nella ragnatela della censura. Per esempio Roberto Bellarmino San Roberto Bellarmino Qui vediamo un'immagine dell'opera Lucerna degli inquisitori Lucerna inquisitorum uno dei tanti ausili di lavoro per gli inquisitori Negli ultimi decenni del Cinquecento l'attività della congregazione dell'indice diventa febbrile senza tuttavia riuscire ad arrestare completamente il cammino delle idee e la circolazione dei libri. Sono molte le pubblicazioni poste all'indice stampate clandestinamente e con luoghi di stampa falsi distribuite con fatica e pericolo a prezzi più alti del normale che pervengono ad una sorta di privilegiata aristocrazia di liberi lettori spesso in contatto fra loro e con gli intellettuali stranieri in virtù dei quali si crea un circuito di fruizione costante di respiro europeo non del tutto ignoto all'autorità ecclesiastica. Nel fondo antico di Lamezia vi sono diversi libri proibiti e censurati sia perché molti di questi sfuggivano ai controlli sia perché nel Seicento la Chiesa determinò di usare conventi come quelli dei Capuccini per accogliere il materiale proibito in periferia nella periferia degli stati. I censori vedevano l'eresia nascondersi ovunque nelle parole, nelle metafore e colpire gli sprovveduti lettori persino attraverso i nomi degli stampatori. I censori tormentano di cancellature e di tagli le pagine degli impoglio di Basilea. città dei riformatori Calvino e Zwingli e tanto si può vedere anche sui libri conservati a Lamezia con pagine intere o righe dei testi inchiostrate nelle edizioni di Froben Basilea persino su un dizionario greco potete vedere l'immagine o anche sulle commedie di Terenzio inchiostrato per via dei curatori Erasmo e Filippo Melantone un autore condannato di prima classe dell'editore Froben si conservano anche i volumi dell'opera omnia di Sant'Ambrogio con parti inchiostrate che hanno le preziosissime iniziali incise da Hans Holbein il giovane grande artista del XVI secolo la cultura italiana progressivamente venne emarginata a causa dell'irrespirabile atmosfera censoria il dominio ecclesiastico sull'istruzione l'aristotelismo acritico la disoccupazione intellettuale e il conformismo che spinse alla crisi il settore editoriale e la censura sui libri non fu affare soltanto della Chiesa romana perché anche le Chiese protestanti la usarono ampiamente e ad essa ricorsero sempre più largamente diversi governi europei per ragion di Stato e per altre motivazioni non tanto religiose quanto concretamente laiche nella prima metà del Cinquecento era stata a Venezia a produrre quasi la metà dei libri stampati in Italia e in quel momento è il più importante centro europeo del libro a stampa proprio a Venezia Aldo Manuzio sue preziose edizioni sono presenti alla Casa del Libro Antico Aldo Manuzio inaugurò una collana in formato ridotto adottando un nuovo carattere il corsivo la nuova produzione che offriva in volumi portatili e in chiridi o manuali che stanno in una mano classici latini Dante e Petrarca privi di note e commenti con il nuovo carattere disegnato da Grifo ebbe un enorme successo in tutta Europa tanto che vennero falsificate dagli stampatori di Lione all'inizio i tipografi si erano mantenuti fedeli ai grossi formati dei codici manoscritti che venivano posti su un leggio o su un banco per la lettura comunitaria e lo studio i cosiddetti libri da banco ne vediamo un'immagine che solitamente venivano fissati con una catena per evitarne sottrazioni e spostamenti ma quando nacquero i formati più piccoli i libri da bisaccia e i libri da mano il libro diventa un oggetto personale da usare da soli trasportare magari nascondere Aldo Manuzio con i suoi libri portatili contribuì a far uscire il libro dal chiuso degli studioli e delle biblioteche favorendo l'uso nei viaggi o nei luoghi e nei tempi del riposo extraurbano specialmente da parte di professionisti e gentiluomini colti scusate a Venezia fra le dinastie di editori librai attivi ci sono i giunta vediamo un'immagine di un frontespizio di un'edizione giuntina presenti i giunta nel fondo antico di Lamezia con le loro edizioni sia veneziane che prodotte a Lione i giunta divennero celebri soprattutto per aver creato una rete di vendita davvero europea dalla Spagna alla Polonia la loro impresa fu sorretta da un'abile impostazione imprenditoriale che suddivise i rischi finanziari tra produzione libraria mercanzia proprietà fondiaria immobiliare Lucantonio Lucantonio giunta allargò ulteriormente i suoi negozi a dimensione mediterranea ed europea affiancando ai libri nei suoi magazzini anche balle di seta e di spessie anche Valgrisio i sessa gli scotto e i giolito lavorarono molto in numerose e sono le loro edizioni nel fondo di Lamezia vediamo qui il frontespizio di un'opera di Valgrisio qui di sessa Venezia era uno snodo centrale dei commerci fra Europa e Medio Oriente accanto ai libri in latino e in volgare si stamparono anche testi in ebraico armeno in alfabeto cirillico e persino un corano in arabo che per il suo editore si rivelò però un disastro totale diverso successo per i libri di Manuzio in una lettera al riformatore su Ingli un umanista svizzero gli narrava come il suo cielo di Froben aveva appena mandato a prendere a Venezia un intero carro pieno di classici nelle migliori edizioni di Aldo e continuava se ne desideri qualcuno dillo subito e mandi contanti perché non appena il carro arriverà per ogni libro ci saranno 30 clienti che grideranno solo qual è il prezzo una vera svolta si realizzò quando gli editori iniziarono a produrre per un pubblico che per la maggior parte era loro ignoto e fisicamente aveva sede nei luoghi più disparati Aldo Manuzio ancora fu il primo che seppe incontrare il gusto di tanti lettori sparsi in tutto il mondo occidentale avvalendosi però per la sua distribuzione non solo della solidità delle rotte mercantili veneziane ma anche della pubblicità degli stessi studiosi entusiasti dei suoi libri oggi diciamo il passaparola si circondò di collaboratori del calibro di Erasmo da Rotterdam che narrava come Aldo e lui lavorassero a stretto contatto con gli stampatori e nell'officina controllavano perfino l'allineamento dei caratteri lavoravano così intensamente da dice Erasmo non avere tempo neanche per grattarsi le orecchie la vicenda di Aldo Manuzio fu un'avventura culturale che lo pose subito già agli occhi dei contemporanei su un piano diverso e in seguito difficilmente raggiungibile da altri editori fu grazie a lui che la cultura italiana si insediò nei centri del sapere accademico in Inghilterra tutti gli editori stampatori e i rivenditori di libri italiani fiamminghi tedeschi e francesi avevano le stesse difficoltà a commercializzare solo libri e anche i grandi pareggiarono il bilancio commerciando altri prodotti tutti o quasi spedivano o ricevevano balle di carta i librai delle piccole città facevano commercio di prodotti locali la cui esportazione consentiva loro di far quadrare i conti gli stessi editori e stampatori gestivano librerie nelle loro città e i più importanti ne aprivano anche in altre località della penisola non trascurando l'estero tramite agenti Giolito aprì librerie a Ferrara Bologna e Napoli Valgrisio vendeva libri in parecchie città del centro Italia e anche in Calabria fu un editore spregiudicato oltre ai libri nelle sue botteghe vendeva anche edizioni di contrabbando del mercato internazionale stampò anche un'edizione plagio visto il successo che aveva avuto di un trattato medico di Ippocrate stampato a Basilea da Froben pochi mesi prima anche Melchiorresessa si servì di librai in Calabria e Sicilia sappiamo che le commissioni pagate agli agenti da alcuni librai editori erano del 10% già alla fine del 500 venivano venduti libri di seconda mano un altro dei grandi stampatori del secolo Plantin di Ambersa di cui abbiamo diverse edizioni anche del primo 600 alla mezza vediamo di Plantin la casa di Ambersa che era anche adibita a libreria come la intendiamo oggi noi per la vendita dei libri e delle varianti della marca tipografica quelli che oggi chiamiamo il logo Plantin mantenne un atteggiamento ambiguo e non sarà il solo pur essendo simpatizzante di dottrine riformate e anche protetto dal cattolicissimo Filippo II di Spagna edipide la sua produzione tra pubblicazioni cattoliche e pubblicazioni eterodosse perché gli affari sono affari in tutti i tempi il libro però conserva il suo grande potere di veicolo di idee nuove e rivoluzionarie come dimostra nel 1610 la vicenda del Siderius Nuncius di Galileo il piccolo libretto nel quale lo scienziato annuncia le sue prime sensazionali scoperte effettuate col cannocchiale è in latino lingua che lo rende comprensibile a tutti gli studiosi europei e contiene immagini e istruzioni su come prepararsi un cannocchiale il lettore insomma è invitato a ripetere le esperienze dello scienziato verificandole di persone tirato in 550 copie dopo una settimana è già esaurito e dopo soli tre anni ne compare un riassunto in Cina i luoghi di stampa delle più di 200 cinquecentine del fondo antico di Lamezia rispecchiano questa geografia editoriale di respiro europeo sono infatti di cui molti in più volumi 124 le opere stampate a Venezia 23 a Roma 15 a Lione 10 ad Anversa 4 a Basilea 4 a Parigi 4 a Ingolstadt 3 a Napoli 1 a Colonia Lipsi a Brescia Milano Mantova si conoscono pochissime tipografie funzionanti in Calabria una a Reggio fine 400 3 a Cosenza e poi una a Soriano come testimoniato dall'opera in due volumi stampata da Ferro nel 1665 ne vediamo il frontespizio era principalmente da Messina che giungevano in Calabria i libri il mercante intermediario gestiva gli scambi tra le aree di produzione tipografiche europee e il mercato siciliano quindi distribuiva i libri grazie alla rete di agenti predisposta per la commercializzazione di altri tipi di merci il mercante di città comprava dall'intermediario grossista e vendeva al minuto e si trasformerà in un mercante operatore culturale denominato Librarios il libraio infine c'è l'ambulante cioè il venditore mobile che opera nel circuito delle fiere spostandosi dall'una all'altra trasportando le merci su un animale da Soma o con una gerla sulle spalle e assicurando una distribuzione capillare del prodotto dalle figure di due intermediari dell'epoca si comprenderà meglio il meccanismo Bartoletti opera a Palermo nel Cinquecento con una complessa struttura fra porti a prodi caricatori noleggio di caravelle o galeoni assicurazioni per uomini e merci sulle navi e l'intermediario tra i centri di produzione libraria europei e il mercato librario siciliano sull'asse Lione Palermo o Venezia Ragusa Catania Napoli utilizzando il classico scambio fra frumento e altre merci in questo caso libri quando se ne presenta l'occasione egli amplia la sfera dei suoi affari anche ad altri tipi di merci non disdegnando il commercio degli schiavi presenti sul mercato del Nord Africa che rivende sulle piazze mediterranee lo stesso ruolo di mercante intermediario è svolto da Carrara che realizzò una complessa rete di affari fra settori apparentemente incompatibili fra loro come tipografia commercio di libri e partecipazione a società di botteghe di panieri i venditori di tessuti e di merci coltivazione e raffinazione dello zucchero commercio di metalli acquisti di frumento fave olio e formaggi si intrecciano con spedizioni di libri e attrezzature di stampa con librai sparsi nelle diverse località di Sicilia e con i suoi venditori ambulanti Carrara inoltre console veneto a Palermo dove assiste i capitani delle navi alla dogana e durante la loro permanenza in Sicilia intorno al 1580 in porta lame ed else di spade che fa poi montare da artigiani siciliani ritira fogli di rame che rivenda ai calderai esporta dall'isola frumento fave sale e formaggio in cambio di libri da Venezia i libri non arrivavano rilegati alle apoteche librorum le botteghe dei librai dai centri di produzione bensì in fogli sciolti un uso ampiamente praticato perché da un lato facilita la spedizione in casse barili e la conservazione nei magazzini del materiale stampato dall'altro si elimina il costo della rilegatura che è scaricato sul cliente che può scegliere la soluzione più idonea ai suoi gusti e ai costi che vuole sostenere i librari adesso trattano direttamente con i centri di produzione per l'acquisto dei libri gestiscono da soli le spedizioni ordinate dai magazzini degli editori in varie città si danno delle regole per ridurre i rischi con contratti di assicurazione obbligatori per i carichi sulle navi regolano i rapporti con i fornitori con lo strumento della lettera di cambio si crea un fondamentale standard per il prezzo dei libri pagato alla produzione standard che si chiama Apprezzi di Venezia i librai possono ormai valutare la capacità di recepimento di un'opera da parte del mercato e nello stesso tempo possono creare e coltivare una clientela che si accosta alla carta stampata non solo per l'esercizio della propria professione ma anche per trarne di letto per essere partecipe dei processi di trasformazione culturale che caratterizzano l'Europa del 5-600 Bartoletti apre una libreria a Messina rotta primaria dell'asse Venezia-Sicilia e nel contempo fornisce volumi ad altri librai messinesi e agente commissionario di Luca Antonio Giunta il nome del quale consegna al libraio pasta per esempio casse di libri imbarcata a Venezia a gennaio approdata a Palermo e poi trasportata a Messina dove giungono dopo 5 mesi a maggio la partita dei libri è pagata dopo 18 mesi anche Carrara ha una libreria a Palermo e una Messina affidata a un Veneto fornisce anche altri librai e botteghe di modica e polizi e utilizza i venditori ambulanti che consegnano anche libri a domicilio insieme ad altre merci e l'Amazon del 500 Carrara riesce a creare una rete di clienti di qualità soprattutto giuristi che fidelizza attraverso differimenti di pagamenti e diventa anche stampatore importa casse di caratteri da Venezia e le affida a un tipografo messinese per realizzare nella città dello stretto la stampa di libri di musica e di grammatiche facilmente vendibili per le scuole si occupa anche del commercio dell'usato investendo capitali nell'acquisto di biblioteche dismesse da privati da rivendere tramite altri librai molti aprirono botteghe di librai a Messina anche un francese tale Embert di cui è interessante scorrere l'inventario dei beni alla sua morte Embert proprietario di una bottega di Mercedius di Merciaio offriva ai suoi clienti libri rilegati e in fogli sciolti stampe anche colorate quadri carta per scrivere penne d'oca e calamai piombo e stagno per rivestire l'interno delle pentole in rame attrezzi per fabbro ferraio attrezzi per sartoria casalinga bigiotteria borse guanti specchi pettini francesi rasoi di acciaio forbici spazzole bilance di precisione cappelli bacilli candelabri calze di lana bottoni ferri di lancia catenacci negli scaffali di Ember sono presenti anche 166 titoli per complessivi 414 volumi accanto a opere di filosofia numerosi ufficioli e sermoni per preti l'opera dell'inquisitore Torquemada la grammatica latina di Valla bibbia anche figurata e testi giuridici opere di medicina manuali di farmacopea due inaspettati titoli proibiti di Erasmo da Rotterdam insomma ce n'è per tutti i gusti specchio dell'evoluzione della domanda che diventa più qualificata è la bottega di Piffari nel 1597 è un libraio pisano che dispone sui suoi scaffali a Messina di 1217 titoli per complessivi 2816 volumi che coprono una gamma di materie amplissime accanto alle tradizionali aree dedicate a filosofia e teologia vi sono numerosi volumi che rispecchiano la particolare attenzione che si dedica alle nuove scienze matematica fisica architettura agricoltura innovazioni tecniche numerosi altri volumi sono dedicate alle nuove frontiere della medicina quali la pazia o le malattie verere la cultura della controriforma l'indice dei libri proibiti la diversificazione degli interessi dei clienti il moltificarsi degli ordini religiosi che condizionano con le loro richieste la produzione libraria provocano profondi cambiamenti nell'offerta dei cataloghi degli editori e in conseguenza modificano l'assortimento dei titoli sugli scaffali dei librai nel seicento nelle librerie di palermo il numero dei titoli e l'entità delle copie a disposizione dei clienti aumenta in modo vertiginoso mentre il rapporto quantitativo tra area umanistica teologica e scientifica si capovolge con una predilezione progressiva dei lettori per i libri d'argomento scientifico in due inventari di librerie di palermo compilati intorno al 1620 vediamo che la bottega di meli ha un ampio settore dedicato ai libri usati soprattutto libri di diritto e un'ampia offerta di libri illustrati con stampi incise oxilografate il libraio maringo invece si è specializzato nella vendita di spartiti musicali nel suo magazzino si trovano 68 libri di musica descritti con cura mostrandoci l'apertura della Sicilia alla nuova sensibilità musicale che caratterizza il 600 con gli imporsi del madrigale polifonico o delle cantate da camera arrivati a Messina i libri per la Calabria affrontavano un complicatissimo viaggio ci si muoveva a cavallo ma per lo più sul dorso di un asino e a piedi le principali vie di comunicazione coincidevano a tratti con le antiche strade consolari romane che erano in stato di abbandone attraversanti terreni impaludati erano la via interna Agnia o Popilia da Capo a Reggio e la via costiera Traianea entrambi sul versante tirrenico che insieme alla via Ismica proveniente da Squillace si congiungevano appena fuori della piana di Santofemia progressivamente si era affermata la tendenza ad allontanarsi dalla costa le popolazioni per i loro traffici seguivano percorsi interni ritenuti più sicuri nel 1562 per effetto della prima organizzazione del servizio postale vennero ripristinati dei punti di tracciato consolare della Popilia un importante insegnante domenicano dovendo raggiungere dalla Sicilia Cosenza per inaugurare l'anno accademico era il rettore temeva l'avventuroso viaggio attraverso burroni montagne rovinose fiumare sicché oppose resistenza per timore di perdere le casse con i propri libri e manoscritti necessari per le lezioni era così terrorizzato che fu necessario convincerlo con un grosso incentivo in denaro nel 1585 Tommaso Campanella 17enne giunge a Nicastro per proseguire la sua formazione filosofico teologica di frate domenicano vi rimase tre anni a Nicastro nel 1585 il giovane domenicano trovò una biblioteca ricca di volumi e aperta a diversi filoni di studio si sa che per i domenicani il libro era arma della loro milizia il convento Nicastrese era sede di studi un particolare senza conferimento di gradi accademici ma era passaggio obbligatorio per specializzarsi nella filosofia con Aristotele e la teologia con Sant'Omaso il convento domenicano era integrato in una vasta rete scolastica di cui beneficiavano molte zone della Calabria nel convento si tenevano anche lezioni a scolari esterni per una istruzione elementare nella sua opera sintagma dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere composto a Parigi Campanella riferisce che in gioventune con venti calabresi studiò tanti di quei libri da poter usare e coniare il termine per leggere indicando una speciale intensità di lettura iperleggere superleggere gli bastava leggere infatti un libro una volta per ricordarlo per sempre qualche anno dopo aver lasciato la Calabria in un primo processo a Napoli Campanella venne accusato tra l'altro di aver acquisito tutta quella conoscenza ritenuta incredibile per un giovane di ventitré anni grazie a uno spirito diabolico personale la sua risposta amare e famosa dirà di aver consumato più olio lui per la lampada a leggere che l'oro vino e che certamente il suo diavolo familiare lo teneva nascosto sì nell'unghia del mignolo in un processo seguente lamenterà un forte abbassamento della pista causato proprio da tutte le letture al più colume sulle coperte pagine dei libri della biblioteca domenicana quante macchie d'olio sono cadute negli anni agli antichi lettori quante ditate di polpastrelli sporche di inchiostro se potessimo fare delle indagini su queste vere e proprie impronte digitali o sul DNA dei lettori che sicuramente svoltavano le pagine come fanno tanti bagnando le dite con la saliva chissà cosa potremmo scoprire anni castro allora il domenicano di stilo col suo straordinario talento e la prodigiosa memoria approfondisce l'esame della filosofia aristotelica pervenendo alla scelta fondamentale di ribellarsi a tale modello di pensiero trovato sterile e falso legge libri canonici e di teologia si appassiona a Savonarola su un libro proibito studia le raccolte di sermoni l'oratoria e la storia delinea un trattato metodologico il da investigazione rerum poi perduto che è il primo tentativo campanelliano di fondare un nuovo metodo di conoscenza e scienza che rifiutando ogni dogmatismo intendeva riconciliare il sapere con le esperienze e con la natura la natura come i sensi ci additano la sua scelta di pensiero è compiuta conosce già la filosofia telesiana e ne è entusiasta ho avuto l'onore di scoprire molti dei libri che campanella studiò anni Castro e sui quali ha lasciato una serie ricchissima di postille autografe e annotazioni fra tutte ne cito una sola sul foglio di guardia di un libro in mezzo ad altri suoi appunti compare l'abbozzo di una campanella col battacchio centrale un poco inclinata a simulare il movimento questo simbolo rappresentò la missione che il dominicano sentiva di incarnare di squilla che sveglia miseri oppressi dal sonno dell'ignoranza e rassegnazione è la campanella del sigillo personale la campanella di settimontano squilla pseudonimo usato per le sue liriche il mozzo che regge la campanella semi nasconde i numeri 7 e 3 campanella fu sempre affascinato dalle pratiche esoteriche dall'astrologia e dalle scritture criptiche nella numerologia il numero unico dato dalla somma della data di nascita di campanella è 7 indica la creazione il 3 indica la triplice manifestazione di dio unico attraverso forza saggezza e amore questi sono anche i significati dei nomi dei tre reggitori della città del sole pon sin mor cioè potenza forza saggezza amore sullo stesso foglio alcune frasi fanno capire che si era già avviato il suo sogno di rinnovamento sociale descritto nella città del sole anche influenzato dalle letture di resoconti di viaggi di esplorazione e conquista che avevano fatto riemergere un vivo interesse per il modo di vivere di paesi lontani sconosciuti anni castro campanella aveva letto un libro che all'epoca era un vero best seller e che si conserva in un esemplare mutilo per l'eccessivo uso è l'opera di giovan battista ramusio delle navigazioni e viaggi con le descrizioni di terre lontane l'india l'isola di taprobana che darà il nome alla sua città del sole il regno di malabar la cocincina e dove si narrava dei viaggi di vasco de gama e di americo pespucci e delle usanze di popoli che adoravano il sole e mi fermo con i consigli di campanella per i lettori leggi libri di tutti gli uomini e non respingere a prima vista ciò che non si accorda con il tuo intelletto infatti troviamo molte verità che prima collocavamo tra le cose impossibili non si deve disprezzare nessun libro e molto spesso indicazioni preziose si celano fra sciocche e chiacchiere infine reputa tutta la scienza infinita e non pensare di essere mai giunta alla meta e non smettere di imparare e adesso un buon proseguimento con gli altri incontri convinta che i lettori sono viaggiatori circolano sulle terre altrui come nomadi che cacciano di frodo attraverso i campi che non hanno scritto razziando i beni d'Egitto per trarne godimento grazie Antonella è stata bravissima la prego so di darti un dispiacere ma io ho l'ingrato compito di dirti che non abbiamo tempo per il dibattito infatti stavo facendo già i saluti allora ringraziamo all'Antonella per questa analisi intrigante attenta attuale e profonda sul mondo dei libri del 5-600 attraverso la figura gigantesca di Tommaso Campanella il 5-600 sono anche i secoli contemporaneamente della rivoluzione scientifica e dell'alchimia per chi ha tempo e vuole accanto nel giardino c'è la replica identica della porta magica del Marchese la Palombara che si trova a Roma in piazza Vittorio e che Mino Gabriele considera il simbolo dell'alchimia occidentale se chi vuole restare nella biblioteca anche nei prossimi giorni troverà le sezioni di Vittorio Sgarbi che ha inaugurato questa biblioteca l'11 di luglio del 2015 la sezione Giulio Tremonti che qui ha presentato il suo ultimo libro Mundus Furiosus la sezione Nicola Gratteri un giudice a cui tutti gli italiani devono qualcosa dobbiamo qualcosa che lei ha inaugurato in occasione del compleanno del comune di quest'anno la sezione Giordano Bruno Guerri che vent'anni fa ha inaugurato in Italia la notte bianca proprio partendo da Soveria e la sezione Democrazia Cristiana inaugurata da Ciriaco De Mita ringraziamo Mimmo Piraina direttore di Palazzo Reale di Milano e dei musei civici della città cittadino benemerito di Soveria Mannelli dal 2015 ringraziamo Mimmo Nunnari giornalista scrittore che da capo redattore della RAI calabrese ha colto e promosso i fermenti di novità che la nostra comunità ha espresso ringraziamo Angelo Sirianni presidente del consiglio comunale Peppino Gabriele consigliere comunale Franco Sirianni presidente dell'associazione imprenditore del Reventino e Marco Rubettino presidente dei giovani imprenditori della provincia di Catanzaro per la loro presenza ringraziamo Florindo Rubettino consigliere comunale editore professore universitario animatore di questa manifestazione ringraziamo Antonella De Vinci autrice del bel libro che stasera abbiamo presentato e ringraziamo soprattutto tutti voi che con la vostra presenza state rendendo uniche queste giornate e ringraziamo per la vostra presenza e ringraziamo tagliare in tutto segnalo e ringraziamo con la vostra presenza